Come questa tragedia di questa notte, sono stati 700 morti nel canale di Sicilia. 700 morti? Ma bisogna dire a Salvini che la smetta di dire quelle sciocchezze che dice. Io non ho vergogna di dire che non sono d'accordo in quelle frasi che dice. Questa è gente che non bisogna lasciarli morire. Il discorso è che l'Europa e il mondo devono dare una mano e che bisogna andare in Libia a dialogare con queste tribù, cercare di... Però non si può stare, voltarsi da un'altra parte e lasciar morire la gente in mare. Questa gente è disperata e che ha bisogno della nostra solidarietà. Chiaro che l'Italia non deve essere lasciata sola, però non è neanche giusto che si lasci morire la gente. Bisogna sentirsi indignati, oltre che commossi e partiti. Ma io adesso non voglio entrare nel discorso dei partiti. Adesso ho detto questa parola perché quella persona che ha nominato in televisione lo sento dire tutti i momenti e quindi dice delle frasi che non sono compatibili con la nostra cultura cristiana ma anche umana, perché umana vuol dire solidari con le persone come noi. Scusate, andiamo a difendere gli animali, i gatti, se uno dà un calcio a un gatto lo denunciate e poi lasciamo morire la gente così.